Ciao a tutti cari amici, buonasera e bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, ho preparato queste due solite varianti per la nostra canalizzazione del pensiero, allora la variante 1 con il calderone, la variante 2 con questo libricino. Io vi ricordo sempre che sono interattivi, quindi mi raccomando, ascoltateli con la mente aperta, non fossilizzatevi su questioni che non vi riguardano, quindi cercate di capire se sono messaggi per voi e se invece non c'entrano nulla, magari provate a cambiare variante, eventualmente trovate nella descrizione del video una playlist dove ci sono tutti gli interattivi, le canalizzazioni del pensiero fatte finora e andate a vedere se c'è un video che in qualche modo vi attira. Allora, io partirei subito con la variante 1, vi ricordo che se non vi è bastato il video, stoppate serenamente, prendetevi il tempo che vi serve per riflettere e andate ad ascoltare la vostra variante. Allora, partiamo con il calderone, questa sera andiamo ad utilizzare gli oracoli del prisma, andiamo a vedere che cosa sente, che cosa vi vuole anche dire un po' la persona di vostro interesse. per coloro che hanno scelto la variante 1. Allora, qui abbiamo sicuramente una situazione che mi dà l'idea che si sia un po' bloccata. Qua c'è un ripulire delle energie, una situazione, quindi per molti di voi probabilmente c'è stata una chiusura voluta forse da voi o dall'altra persona, naturalmente sono interattivi quindi non vado a vedere nel dettaglio effettivamente cosa succede, quindi cercate di capire se siete voi o sei l'altra persona, voi naturalmente lo saprete e fatto sta che qui c'è proprio un ripulire la situazione. Mi fa pensare che per molti di voi non era così sano il rapporto, quindi forse c'erano incomprensioni, litigi oppure anche altre persone che disturbavano il rapporto o semplicemente una situazione in cui il dare, l'avere all'interno del rapporto non era reciproco, cioè qualcuno dava di più dell'altro e viceversa. Qui abbiamo una persona che pensa a questa chiusura, a questo cambiamento importante che c'è stato. Ci pensa con dolore, anche con, se vogliamo, probabilmente un trauma sotto un certo punto di vista, perché la morte di qualsiasi cosa sia comunque è sempre inaspettata e anche ferisce, ma è una persona in ogni caso che ha fiducia nella situazione, quindi o in una fase comunque di miglioramento o per moltissimi di voi più che altro una fiducia sul fatto che questo cambiamento possa essere per questa persona positivo. Io vedo che qui questa persona non vuole più saperne di voi, proprio sta rigettando qualsiasi possibilità di ricostruire la situazione, si è reso conto, si sta rendendo conto che questo rapporto non va più da nessuna parte ed è destinato quindi a chiudersi, ma soprattutto sta rigettando l'idea anche di consapevolezza del vostro rapporto o della persona stessa, anche di sentimenti che ha. Qui per alcuni di voi potrebbe essere una persona che ha chiuso perché teme di riconoscere dei sentimenti, si è reso conto di averli ma non riesce ad ammetterli, quindi rigetta qualsiasi possibilità nonostante diciamo quello che c'è, la fiducia è quella appunto che questo comportamento possa in qualche modo eliminare questi sentimenti per cui questa persona ha paura di soffrire. Vediamo se l'oracolo del vorrei dirti che aggiunge qualcosa alla variante 1, che cosa vi dice? Vediamo se emergono dettagli, sono arrabbiato, voglio fare l'amore con te, ecco quindi qualcuno probabilmente è anche attratto, ho bisogno di parlare con te, vediamo qui cosa emerge, non mi fido più di te, lo so che mi sono comportato male, attenzione che qua questa carta di rigetto potrebbe riguardarmi anche una terza persona in mezzo al rapporto oppure se questa persona sapete che è impegnata probabilmente potrebbe anche allontanarvi con la fiducia appunto che magari la situazione possa rinascere anche se qua quest'uomo dico la verità non vede un futuro, non vede la possibilità di far partire questa situazione, questo rapporto, però potrebbe esserci questo blocco dovuto a una terza persona perché qui emerge anche il fatto che comunque questa persona vi desidera di fatto per cui potrebbe essere anche un obbligo questo rigetto che c'è qui. ovviamente mi saprete poi dire nei commenti perché questi come vedete sono oracoli molto semplici e quindi non mi dicono più di tanti dettagli, qua devo chiudere il nostro rapporto infatti. Ripulizia di energie, chiusura, cambiamento nonostante qui la voglia di stare con voi perché è una persona che comunque vi desidera, sa che si è comportato male, per altri c'è anche il nome Fido più di te, quindi probabilmente per alcuni è successo anche qualcosa a causa vostra ed è arrabbiata questa persona, forse appunto per questa chiusura. Vediamo per voi cosa esce con gli oracoli del pensiero del cuore. Ricordo perché è la prima volta che li vede che sono messaggi motivazionali che servono a voi che state guardando il video per riequilibrare le energie e ripetendo le frasi quotidianamente non solo capite cosa avete bisogno di guarire ma anche aumentate la vostra autostima e riportate, riequilibrate le energie in modo positivo e quello che desiderate vi arriva più facilmente. Allora è sicuro cercare dentro di me la pace mentale. Quindi già mi dicono che non dovete pensare troppo a questa situazione. Faccio ciò di cui ho bisogno per mantenere il mio mondo interiore in pace. La mia pace interiore è fondamentale per la mia salute e il mio benessere. Quindi non andate in ansia per questa persona, per la situazione, cercate di tenervi in equilibrio. È solo un pensiero e un pensiero può essere cambiato. I miei pensieri e le mie parole creeranno il mio futuro. I miei pensieri formano le esperienze di domani, della settimana prossima, del mese venturo e dell'anno a venire. Quindi pensate positivo. Apro nuove porte alla mia vita. Confido che la mia guida interiore mi stia indirizzando nel modo migliore per me. La mia crescita spirituale è in continua espansione. Ecco, quindi cercate di non fossilizzarvi su questa situazione e datevi anche nuove opportunità. Andiamo a vedere i segni zodiacali per questa variante. Allora abbiamo i segni di aria, quindi gemelli, acquario e bilancia. Il segno del capricorno. La bilancia che è riconfermata. E poi abbiamo il sagittario. E la vergine. Va bene, variante 1. Mi raccomando, ditemi nei commenti qual è la vostra situazione. Io vi ricordo che mi potete contattare via mail o anche via whatsapp. Trovate tutto nella descrizione del video. E niente, questi video sono validi dal momento in cui vengono visti. Quindi mi raccomando, se volete continuare a vedere degli interattivi, sia canalizzazione del pensiero, ma anche molti altri tipi di video, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Così naturalmente vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico e potete rimanere costantemente aggiornati. Allora, passerei adesso alla variante numero 2, quindi per coloro che hanno scelto il libro, che metto qui. Allora, variante numero 2. Andiamo subito a vedere cosa sente, che cosa prova questa persona. Per coloro che hanno scelto il libro. Allora, qui abbiamo sicuramente una situazione che sta evolvendo, seppur magari lentamente e anche con movimenti impercettibili, comunque sta andando avanti, sta progredendo il rapporto tutto sommato. E lo fa anche in modo fluido e sembra sereno, rilassato. E' una persona che vi pensa innanzitutto con dolcezza, è un uomo che è felice di avervi conosciuto, di far parte della vostra vita e che voi facciate parte della sua. Pensa che voi gli date felicità, gli date serenità. Vi ritiene delle donne estremamente intelligenti, belle, affascinanti. Vede abbondanza nel rapporto che ha con voi e in voi proprio, come carattere, come donne, come capacità di donargli qualcosa. Quindi è una persona che sta bene con voi, se si sente anche in una condizione di familiarità, quindi probabilmente qui c'è anche la sensazione di conoscersi da molto tempo. E' una persona che vuole fare un movimento nei vostri confronti, vuole fare un'azione, quindi preparatevi ad un aumento anche dell'importanza del rapporto. Quindi se siete amici, magari una persona che vuole portarlo oltre, se vi frequentate e c'è il desiderio di concretizzare magari un fidanzamento o finalmente comunque avere una relazione di un certo tipo. Qui ci sono delle energie molto positive. Questa persona sente proprio un collegamento animico importante con voi. e sente anche di avere un'energia simile, quindi viaggiate nella stessa frequenza. Vi sentite, vi specchiate, amate probabilmente le stesse cose, siete anche molto simili, almeno questa persona, quello che pensa, e si sente in pace, nel vero senso della parola. Quindi gli date proprio serenità e tranquillità. Vediamo se emergono altre varianti all'interno di questa stesa. Allora, non riesco a chiederti scusa. Interessante. Vediamo ancora. Lo so che sei innamorata di me. Voglio un bambino con te. Ho bisogno delle tue attenzioni. Prendiamo un'altra frase. Nessuna è come te. E qui abbiamo Ho bisogno di stare da solo. Allora Diciamo che qui gli oracoli del vorrei dirti che ci aggiungono dei dettagli alla stesa perché come potete vedere questi oracoli colorati che sono gli oracoli del prisma sono molto semplici, molto elementari. Quindi andiamo a vedere appunto dei dettagli con le frasi. Allora, non riesco a chiederti scusa. Qui probabilmente mi fa un po' pensare che possa esserci una situazione di amicizia dove è palese un interesse è palese che si sta bene assieme è palese che il rapporto ha bisogno di andare oltre ma probabilmente non c'è il passo ancora, non è stato fatto. Quindi questa persona si sente probabilmente un po' in colpa perché sa che vi sta tenendo lì ad aspettare. vuole avere una relazione con voi questa persona vuole addirittura avere un figlio con voi dice ho bisogno delle tue attenzioni nessuna è come te quindi vi riconosce che siete uniche e che siete le persone giuste e sa che siete innamorate di voi. Qua dice ho bisogno di stare da solo probabilmente per qualcuno di voi è una persona che non si vuole ancora impegnare o vi ha detto proprio che ha bisogno di tempo o una persona che non vuole ancora rinunciare alla sua libertà o non può insomma farlo per qualche altro motivo andiamo a vedere dei messaggi motivazionali per voi ne prendiamo tre come nella prima variante allora vediamo cosa vi dicono ho sempre la possibilità di scegliere scelgo di credere che è facile cambiare un pensiero o uno schema sta a me scegliere di farlo ecco qui vi dicono non accettate quello che questa persona vi sta imponendo se la sentite come un'imposizione se il comportamento di questa persona vi risulta spontaneo e riuscite ad apprezzarlo senza forzature senza alcun tipo di sforzo e allora va bene state dove state bene altrimenti nulla vi vieta di cambiare anche modo di vedere la situazione in tutti i sensi cioè sia nel senso valutate quello che pensa questa persona quindi non partite da uno schema prestabilito cioè la relazione deve andare in un certo modo se va così bene se no ciao valutate anche l'altra persona ma contestualmente capite cercate di seguire voi stesse se fate fatica ad accettare questa situazione non va bene vediamo qui cosa abbiamo sono sempre perfettamente protetto quindi qua l'universo vi è vicino quando un pensiero di paura emerge e riconosco che sta cercando di proteggermi lo ringrazio e lo lascio andare con amore quindi questo comportamento magari di allontanamento di questa persona o di incapacità di quest'uomo di prendersi degli impegni probabilmente vi sta un po' spaventando lasciate andare questo è un giorno di completamento so e affermo che sono tutt'uno con l'infinito potere ogni cosa nella mia vita va al suo posto facilmente e senza sforzo quindi abbiate pazienza lasciate che le cose facciano il loro corso perché tutto sta arrivando vediamo un po' i segni zodiacali per la variante del libro allora qui abbiamo i segni di fuoco quindi leone, sagittario e ariete abbiamo il segno del toro abbiamo il segno dei pesci l'acquario prendiamo un altro segno e lo scorpione va bene, variante del libricino abbiamo detto abbastanza per questa stesa io vi ringrazio per ascoltare il video ditemi se le stese risuonano con voi mi raccomando mettete un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico io vi mando un abbraccione grossissimo e vi aspetto con i prossimi interattivi